Nell'ambito degli ordinari controlli e i soggetti sottoposti agli obblighi dall'autorità giudiziaria, il personale dell'UPGSP ha proceduto al controllo di un soggetto crotonese di 45 anni, con in atto la misura degli arresti domiciliari, il quale era presente in casa ma si mostrava sin da subito molto nervoso. Pertanto i poliziotti hanno deciso di procedere alla perquisizione dell'abitazione estendendo, poi, il controllo anche ad un locale che si trovava a piano superiore rispetto all'appartamento in questione, di cui l'uomo aveva la disponibilità. Entrati nel locale i poliziotti si sono trovati di fronte ad un ambiente in costruzione con mattoni grezzi e calcinacci sul pavimento. Proprio dietro alcuni calcinacci gli operatori hanno rinvenuto una busta in cellophane con all'interno 72,59 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e due involucri chiusi con del nastro, al cui interno vi era una somma di denaro pari a circa 25.000 euro. Il tutto è stato posto sotto sequestro mentre per l'uomo è scattato l'arresto in fragranza.